Spettacoli di desolazione nelle campagne ferraresi. Lo sciopero dei braccianti della CGL è da circa un mese in fase acuta. Gli animali da cortire trovano becchime di fortuna, ma se polizia, vigili del fuoco, proprietari e liberi lavoratori non intervenissero, più di 60.000 capi di bestiame morrebbero di fame. Interrotte le tubature bisogna ricorrere agli idranti per portare l'acqua negli abbeveratoi. Festa tra gli animali che non sanno di contratti e vertenze bracciantili. I vitellini dalle lettiere in abbandono possono tornare alle loro madri, come se si celebrasse una nuova alleanza degli animali con l'uomo. Anche l'uomo è invitato a mettere tregua nelle sue lotte, ma presto stanno scomparendo gli ultimi chicchi.